Oggi non vogliamo soltanto parlare di donne ma vogliamo parlarvi di parità di genere perché l'8 marzo è vero si celebra la giornata internazionale delle donne personalmente do valore all'aspetto storico di questa giornata e oggi voglio farvi ascoltare le testimonianze di tante donne che hanno saputo dimostrare la loro forza e che oggi ricoprono ruoli importanti all'interno della società tanto c'è da fare ancora per raggiungere la parità di genere però sicuramente siamo sulla buona direzione lo farò con ripeto tanti ospiti che mi raggiungeranno a distanza ma con grande piacere con la presidente del consiglio della regione puglia loredana capone che qui con noi benvenuta presidente ben trovati una giornata molto particolare presidente diciamo è l'occasione per parlare della donna dell'essere donna oggi e con lei vorrei affrontare proprio questo aspetto da diversi punti di vista ovviamente vorrei iniziare subito dal connubio donna politica vedrai insieme a lei i nostri telespettatori questa immagine che la ritrae proprio fuori dal consiglio perché lei prima d'assessora al turismo e dobbiamo dirlo ha dato un volto nuovo proprio la nostra regione adesso con questa nuova carica le chiedo cosa significa per lei la politica e in che modo ha vissuto tutta questa crescita anche professionale ma la politica è un'arte veramente nobilissima io mi ci sono appassionata diciamo immaginando che potessi cambiare davvero le cose non mi sono mai vista in politica fino a quando non mi chiamò il sindaco di lecce di allora era stefano salvemini e doveva fare una giunta tutta tecnica allora mi chiamò io facevo l'avvocato mi occupavo di amministrativo e mi chiese di entrare in giunta così d'amblè e non avrei mai immaginato diciamo questa proposta non ci credevo neppure e lui mi disse guarda io ho bisogno di persone preparate in vari campi voglio fare questa giunta tecnica entra e cambiamo la città era una sfida estremamente intrigante temevo di non riuscire a farlo perché insomma ero sposata da poco avevo una bambina lo studio professionale di cui occuparmi e mi preoccupai subito di chiedere a mio marito che cosa ne pensasse se potessimo riuscire a gestire la nostra vita anche aggiungendo la politica e mio marito mi disse appunto questa questa frase che fu molto bella per me devo dire di grande stima ti lamenti sempre di come vanno le cose nella città adesso ti danno l'opportunità di cambiarla accetta perché diversamente non potrai più parlare e così è cominciata questa esperienza lui si impegnò ad aiutarmi nella gestione della famiglia e abbiamo che le diverse figlie e che poi sono aumentate appunto ho quattro figlie abbiamo quattro figlie orgogliosissimi di questa di questo fatto però ammetto lo dico francamente che se non ci fosse stata questa conciliazione con lui questa condivisione dei compiti nella particolare autonomia che ciascuno di noi ha ma sempre con la ricerca di una condivisione io non sarei riuscita è anche una fortuna a trovare una persona che rispetta il lavoro della donna della compagna della moglie ne stima le capacità e quindi non la vuole costringere questa è una battaglia che dobbiamo fare tutti insieme perché è una battaglia culturale molte molta fatica che le donne fanno rispetto al loro futuro e rispetto alla capacità di immaginarsi i ruoli anche importanti deriva proprio da questa mancanza di collaborazione spesso le donne devono fare tutto devono fare tutto in casa occuparsi dei figli delle figlie e poi lavorare anche non è facile e quindi dobbiamo aiutarle lei ha avuto la fortuna quindi in famiglia di avere un ottimo compagno un ottimo marito ma le chiedo a livello lavorativo qual è stato il principale ostacolo che ha incontrato anche resistenza magari nel vedere una donna anche oggi nel ruolo che ricopre se nota una resistenza allora io le devo dire che noto che esiste una misoginia diffusa quanto più si sale di ruolo in qualche modo di potere gli uomini pensano troppo spesso che il potere sia debba aspettare a loro ecco non so da dove se la sognano questa cosa perché continuano a pensarlo perché continuano e si ostinano a non vedere nella donna le capacità di gestione di team di gestione di ruoli anche importanti difficili tuttavia esiste uno stereotipo il più brutto stereotipo che ci sia nei rapporti uomo donna e invece è bellissimo quando si realizza una complementarietà quando c'è il rispetto e la fiducia perché in quel caso essendo diversi uomini e donne avendo caratteristiche diverse e anche una diversa concezione del potere si riesce a fare davvero il bene della comunità specialmente nei ruoli politici o nei ruoli comunque di gestione di attività collettive faccio un esempio che precisa bene cosa voglio dire gli uomini hanno un'idea del potere come posto da ricoprire posizione da ricoprire per l'uomo avere un proprio posizionamento è fondamentale per la donna invece per la maggior parte delle donne che conosco ma anche dagli studi che sono stati fatti il potere significa un'altra cosa significa poter fare le cose utilizzare la posizione la propria posizione per poter conseguire un obiettivo che è valido per la comunità e la soddisfazione che riceve da quel potere non è il posizionamento ma il risultato questo giova a tutti ecco perché penso che sempre di più le donne si devono impegnare in politica devono avere fiducia nelle loro capacità devono avere fiducia delle loro capacità anche nei luoghi generali di lavoro perché porteranno sicuramente un utile alla comunità non solo a se stesse parlando di politica presidente siamo vivendo un momento particolare forse il primo dalla nascita della nostra repubblica mi aiuterai con questa foto ci sono due donne al potere dei due grandi partiti in italia ecco cosa significa una grande opportunità che i cittadini hanno saputo cogliere e che noi dobbiamo cogliere sono persone molto diverse sono donne molto diverse che hanno un concetto molto diverso dell'essere donna impegnata in politica io ho scelto di sostenere elli proprio perché lei è una donna che si impegna per le altre donne che si impegna per risolvere i problemi della comunità che vede il proprio ruolo nel partito non come un posizionamento di cui parlavamo prima ma come un modo per fare battaglie concrete e raggiungere risultati concreti la battaglia per la casa per tutti e che serve ad aiutare le giovani coppie per esempio a vivere meglio esempi concreti che noi viviamo con i nostri giovani ci lamentiamo del fatto che non hanno figli che sempre di più cresce la denatalità l'italia si trova nel peggiore posto d'europa sotto questo profilo e però una persona che ha un lavoro precario e che ha difficoltà a superare i 1200 1300 euro al mese nonostante la laurea troppo spesso anche quando un lavoro ce l'ha e paga 600 euro 700 euro di affitto ha veramente difficoltà ad avere una famiglia per cui quelle lavoro e casa sono due elementi fondamentali per una persona e quindi noi dobbiamo lavorare per questo elli lavora per questo non trovo le stesse battaglie devo dire in giorgia meloni però sono molto felice che il centrodestra abbia saputo riconoscere apprezzare in lei diciamo la possibilità che una donna potesse diventare presidente del consiglio è un'onda nuova quella che stiamo vivendo un'onda che secondo me avrà porterà ulteriori frutti anche sui diritti civili sulla lotta contro le discriminazioni sulla lotta contro le disuguaglianze tutti dobbiamo essere e tutte dobbiamo essere impegnati in questo prima di andare avanti prima mentre lei parlava io sorridevo ma era un sorriso amaro perché io mi ritrovo in quelle donne che oggi magari vorrebbero mettere su famiglia però effettivamente il costo della casa il lavoro non ci permette insomma di guardare a un futuro prossimo appunto e creare una famiglia quindi speriamo che in questa direzione ci siano delle delle politiche del soprattutto legate al welfare che ci aiutino e dal nazionale io passerei al locale infatti voglio farvi ascoltare le parole dell'assessora alle politiche giovanili del comune di Bari paola romano proprio sul tema donna e politica sentite è atavica la mancata presenza delle donne nei ruoli apicali tanto che il legislatore italiano ha dovuto fare una legge la legge golfo mosca per modificare la presenza delle donne che prima di questa legge era pari al 7 per cento cioè il 7 per cento erano donne il 93 per cento erano sono uomini e quindi c'è una situazione c'era una situazione che diciamo non non accettabile proprio per questo il legislatore è intervenuto con la legge golfo mosca e in questo momento le situazioni sono in parte migliorate perché nelle giunte comunali sono presenti come nella nostra giunta il 50 per cento delle donne o in molte società pubbliche sono presenti un numero importante di donne come prevede il dettato legislativo ma questo non basta perché la presenza delle la mancata presenza delle donne è una questione innanzitutto culturale che dobbiamo su cui dobbiamo lavorare tantissimo in all'interno delle scuole e per combattere gli stereotipi perché dobbiamo far sì che le bambine i bambini decidano di essere quello che vogliano e raggiungano qualsiasi tipo di obiettivo a prescindere dal proprio genere proprio gli stereotipi qual è secondo lei il più difficile da eliminare in una società che va e che deve andare nella direzione in cui lei appunto diceva beh a mio avviso lo stereotipo è quello del macismo ovvero che solo gli uomini possano comandare e che l'esercizio del potere sia l'esercizio della forza il potere è la possibilità e come dimostrano tantissimi stati che sono stati governati dalle donne con migliori performance penso all'ultimo a Giacinta Arden che ha lavorato benissimo sulla gestione della pandemia invece il potere si è esercitato al femminile da grandissima prova di sé. Presidente l'Italia purtroppo indietro anche da un altro aspetto da un altro punto di vista ovvero nella presenza delle donne a ruoli apicali all'interno delle aziende qui in Puglia ci sono diverse presenze femminili io penso anche alla direttrice generale di Acquedotto Pugliese una per tutte però c'è tanta resistenza anche da questo punto di vista l'Italia indietro le chiedo perché e secondo lei quale misure potrebbero attuarsi per superare questo gap? Purtroppo l'Italia è un paese che ha sempre avuto poca fiducia nelle donne e invece la realtà dimostra come nei luoghi dove sono le donne a dirigere oggettivamente le cose vanno meglio e questo io l'ho visto anche con la mia esperienza concreta da assessora allo sviluppo economico tutte le direttori tutte le dirigenti erano donne e hanno acquisito quella quel ruolo per meriti quindi io credo che innanzitutto bisogna maturare questa fiducia nelle donne ci sono anche molte donne imprenditrici in Puglia che dimostrano che di avere iniziativa di avere capacità dobbiamo soltanto potenziare sia con i servizi lo ripeto il discorso che facevamo prima sia proprio con l'autostima da parte delle donne stesse ma anche il superamento degli stereotipi che ci sono nelle società rispetto ai ruoli delle donne dobbiamo dimostrare che ce la si può fare devo dire che in Puglia abbiamo approvato una legge che ho avuto l'onore e il piacere di proporre al Consiglio regionale e poi è stata approvata l'unanimità anche contro la disparità retributiva perché non è solo un problema di acquisire mansioni direttive è anche un tema di retribuzione cioè questa misoginia latente o palese si traduce in tante forme anche nel fatto che si cercano tutti i modi per retribuire meglio gli uomini rispetto alle donne il che disincentiva ovviamente anche la crescita delle donne allora quella legge serve a questo a premiare le imprese di donne costituite da donne a premiare anche le imprese che applicano una parità retributiva era prevista dalla Costituzione nell'articolo 37 e tuttavia nonostante la Costituzione sia stata approvata nel 1900 sia entrata in vigore nel 1948 ancora ad oggi questa parità retributiva non è realtà questo vuol dire che i muri culturali talvolta non tengono conto non si abbattono neanche con le leggi dobbiamo fare uno sforzo comune e proprio di donne di ruoli importanti che si assumono abbiamo ascoltato la direttrice generale di acquedotto pugliese pensate prima donna a ricoprire questa carica parlo di francesca porta in casa intervistata per noi da saverio carrucci direttrice noi ogni anno ci troviamo a fare bilanci punti della situazione a suo punto di vista a che punto siamo con il superamento di quei divari e di genere di differenze che hanno connotato fino ad oggi il mondo del lavoro stiamo certamente migliorando è migliorata in generale nelle nuove generazioni la percezione delle donne non come specie da tutelare nella riserva indiana ma come persone con cui ragionare vivere e lavorare alla pari quindi sicuramente ci sono meno barriere all'ingresso meno prevenzioni nell'ingresso delle donne nel mondo del lavoro c'è ancora tanto da fare e mi tanto di dire sia da parte degli uomini che da parte delle donne stesse perché ancora qualche timore qualche timidezza nell'affrontare determinati ruoli determinate sfide c'è io continuo a sognare il giorno in cui non si parlerà di c'è una donna che fa l'elettromeccanica però già il fatto che ci siano in questo senso di primi esempi sta incoraggiando altre donne a scegliere ciò che il cuore dice di scegliere per loro stesse per il futuro e seguire le loro passioni esempi penso che sia un po questa la parola chiave a suo avviso che ruolo giocano come possiamo far emergere gli esempi che portano ad abbattere queste barriere questo gap che ancora sussiste come sempre continuando a parlarne continuando ad evidenziare il coraggio di alcune pioniere ma cominciando a dare a queste esperienze un senso di normalità è normale che una donna sia sui cantieri è normale che una donna possa fare i turni di notte è normale che una donna possa avere ruoli di vertice questo non vuol dire necessariamente dover sacrificare affetti vita privata sull'altare della diciamo della carriera in effetti noi riflettiamo molto poco Ursula von der Leyen se non sbaglio a sette figli a una famiglia numerosa e questi sette figli avrà avuto il tempo di farli di seguirli come tutti quanti molte donne di vertice hanno smesso di avere un atteggiamento molto mascolino e pur dovendo combattere spesso ad armi non pari stiamo imparando tutte a mantenere la nostra femminilità intatta e saperci proporre come donne e non come uome che è una cosa diversa. Tutto ciò apporta anche un valore aggiunto al funzionamento dell'impresa dell'ente piuttosto che della dell'azienda che si va a dirigere parlo della diversità in generale del non essere standard c'è un valore aggiunto? Assolutamente sì il diversity inclusion e diversity management non si applica solo alla differenza classica di genere ma si applica a tutto pensiamo alle disabilità c'è un esperimento bellissimo che io seguo sui social e Pizz Out che sono pizzerie gestite interamente da ragazzi autistici è un esempio di successo c'è stato la scorsa settimana avevano avuto una prenotazione per 150 posti la prenotazione è venuta improvvisamente meno hanno lasciato un appello sui social hanno riempito il locale dei 150 posti non hanno avuto danno perché è un esperimento che tira un esperimento di successo ci sono esperimenti anche a Bari su ristoranti gestiti in collaborazione tra persone diversamente abili e normodotati c'è il progetto di Baskin squadre di basket se nella vita quotidiana la diversità è una forza per un'azienda è ancora una maggiore forza d'altra parte se vogliamo Camillo Rosalva che è quello che ha ideato l'acquedotto pugliese per rimanere a casa nostra è stato un diverso ha osato sognare una cosa che tutti hanno detto no è impossibile non si può realizzare con i mezzi dell'epoca ieri uno dei nostri consiglieri con il nostro diciamo ne ho assunto il responsabile innovation ICT che è con noi da sei mesi è andato per la prima volta a vedere le sorgenti partecipa oggi a una delle operazioni di interruzione al canale principale e ieri sera mi dicevano stupefacente incredibile tocchiamo con mano cosa vuol dire prendere l'acqua sai dire 250 chilometri di distanza è diverso che fare 250 chilometri immaginate questo giovane ingegnere che ha l'ardire di pensare diversamente noi nasciamo come acquedotto da un pensiero diverso dall'uscire dalla comfort zone se non ci accettiamo gli uni con gli altri non facciamo un mix di differenze e non ci evolveremo mai il melting pot è alla base di qualunque miglioramento in genetica nel darwinismo l'adattamento nelle migliori razze nascono dalla mescolanza di geni se c'è consanguinità si esaltano le patologie è la stessa cosa nelle aziende non cambia più ci integriamo più siamo diversi più cresciamo ma le chiedo il sistema è pronto a suo avviso ad agevolare questa evoluzione penso anche al quadro normativo sappiamo che uno dei problemi dei paesi che fanno parte dell'unione europea per tornare un attimo alla risposta di prima è proprio la differenza a livello normativo nel nostro paese che situazione c'è c'è bisogno di un'ulteriore evoluzione anche del quadro normativo io credo che l'evoluzione la stiano facendo i nostri figli giovani non è la norma sola che aiuta le prime norme sulle pari opportunità sono negli anni 40 50 è l'evoluzione culturale che è stata molto molto più lenta molto più lunga ma se non cambia l'approccio mentale non cambia la cultura non cambia la quotidianità io vedo i miei figli un maschio e una donna sanno cucinare entrambi in casa si sanno dare da fare vivono tutte e due fuori di casa quando erano 18 anni e quindi di necessità virtù vai nel grande mare infestato di squali arrangiti o impari a fare le cose o non so se sopravvivi chiaramente cuori di mamma piange però non importa entrambi sono in grado ma entrambi per questo sono in grado di rispettare e farsi rispettare dalle altre persone compagni e compagni di vita amici amiche quindi è questa nuova generazione gli oggi trentenni quarantenni che trovano naturale che non ci siano poi differenze nel mondo del lavoro se bravo sei in gamba vali sei disponibile a metterti in gioco ok vai è giusto che tu possa andare avanti fermo restando l'umana mozione io sono sempre più figo perché non ci sta nell'essere umano ma io non vedo mediamente nelle generazioni ripeto tra i trenta e i quarant'anni dopo i quaranta ancora qualche tentennamento c'è un e donna deve guadagnare meno e donna non può fare assolutamente non non vedo questa differenza questa esperienza mia figlia che lavora all'estero per lavoro viaggia fa missioni anche in zone non sicurissime ma mai nessuno nel suo ambiente di lavoro si è posto il problema che è una ragazza e che magari mandarla in sudafrica o in in uganda possa essere un rischio un rischio sì ma come mandare un uomo quindi se le ha le competenze per farlo lo fa tutto se le nuove generazioni forse qualche modello a cui ispirarsi lo hanno avuto allora le chiedo il suo qual è stato partendo magari dal percorso di studi e poi immagino durante tutta la sua carriera io ho avuto una grandissima fortuna sono figlia unica ma sono nata in una famiglia patriarcale allargata allargata ad amiche amici dei miei genitori persone molto importanti molto autorevoli una delle cose che mia madre e le sue amiche e una delle zie nelle classiche famiglie meridionali c'è la zia non sposata che cresce nipoti io ero la più piccola quindi sotto certi aspetti la più coccolata ma la più anche protetta dal timore di essere viziata loro mi hanno sempre detto devi essere indipendente devi avere l'indipendenza di testa devi pensare con la tua testa devi avere il coraggio di portare avanti le tue idee di combattere per le tue idee e devi avere l'indipendenza economica perché senza un'indipendenza economica non vai da nessuna parte quindi ho avuto la fortuna di seguire questi esempi di persone che pur potendo permettere sono avuto la fortuna di nascere una famiglia molto benestante potendosi anche permettere mia madre per prima alcune delle sue amiche di non lavorare hanno scelto di lavorare perché dovevano avere la loro indipendenza e questo è stato un insegnamento molto molto forte e molto importante e mio padre che è stato una persona molto rispettosa delle idee altrui e che mi ha anche consentito di fare scelte che non condivideva affatto dicendo sempre non condivido non sono d'accordo ho paura che tu ti possa far male ma è la tua scelta la rispetto vai io sto qui se serve mi devi solo chiamare noi torniamo tra pochissimo continueremo a parlare proprio con la presidente dell'essere donna oggi Greenberg Greenberg Grazie a tutti.